Buongiorno e benvenuti dalla rassegna stampa di Omnibus, buona giornata, una giornata che inizia ovviamente all'insegna di quello che oggi riportano i giornali e che noi tra poco andremo ad analizzare e si parla di quello che sta accadendo in Afghanistan con la situazione ormai delineatasi e la proclamazione dell'Emirato Islamico da parte degli studenti coranici, dei talebani, una situazione ormai conclamata con scene che registrano appunto quale sia il livello di paura, di terrore, di disperazione della popolazione afghana nel momento in cui le truppe, i miliziani hanno fatto irruzione nella capitale, si è scatenato il caos, il tentativo disperato all'aeroporto di Kabul di lasciare il paese, 12 le vittime, alcuni hanno tentato proprio l'ultima carta, quella di attaccarsi ad un cargo statunitense che stava decollando, abbiamo visto le immagini appunto di corpi che precipitavano, insomma c'è stato un parallelo, molti hanno messo in parallelo queste immagini drammatiche a quanto accadde l'11 settembre del 2001 quando molti scelsero di buttare, lanciarsi nel vuoto immediatamente dopo l'attentato, le torri gemelle con le torri gemelle appunto che venivano giù inesorabilmente. Sono scene drammatiche che testimoniano una situazione veramente molto complicata, la diplomazia internazionale è al lavoro in maniera intensa per garantire supporto e soprattutto per salvare tutte le persone che hanno collaborato con l'Occidente e che potrebbero essere vittime delle vendette da parte dei talebani, una situazione veramente complicata, estremamente drammatica. Naturalmente i giornali parlano anche della pandemia che in questo momento è un po' in secondo piano, però ieri c'è stata una risalita dei casi, anche se poi dopo le giornate festive i dati vanno interpretati, però il tasso di positività è salito al 4,9% con la Sicilia e la Sardegna che rimangono indiziate di zona gialla. Iniziamo la lettura dei quotidiani, andiamo a vedere come apre il Corriere della Sera, caos a Kabul, assalto agli aerei, aggrappati ai cargo per fuggire, resse e spari, 12 vittime, rientrati i primi italiani, Biden, non si poteva più restare, i talebani al potere, guerra finita, non saremo isolati, l'apertura di Cina e Russia, relazioni amichevoli, draghi, tutelare i diritti umani, questo nella sua completezza, il titolo con cui apre il Corriere della Sera che ricorda anche le parole di Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, che è tornato a parlare ribadendo a suo dire la evidente razionalità delle sue scelte in funzione del ritiro delle forze armate statunitensi. Ancora dalla Corriere della Sera, alla fine peggiore, Massimo Gaggi, che il ritiro all'Afghanistan fosse un disastro annunciato, era chiaro, fin da quando Donald Trump lo decise da solo, spingendo poi il segretario di Stato Mike Pompeo a dare ai talebani la patente di interlocutori. Si fa riferimento al famoso accordo di Doha, false promesse di Paolo Giordano e poi ancora Baradar è ora il capo, fu liberato proprio da Trump, il Mullah Baradar che è tra i cofondatori del movimento talebano, il generale Petreus, aiutiamo chi abbiamo tradito, il generale che guidò anche la CIA e poi il ritorno del Burka, le testimonianze drammatiche delle donne afghane, noi donne costrette a cancellare i volti. La Sera riporta questi fotogrammi tragici con i due afghani precipitati dal cargo cadono nel vuoto come vent'anni fa dalle torri gemelle. Un altro argomento naturalmente molto molto drammatico è quello relativo al terremoto che ha sconvolto l'isola di Haiti in ginocchio, oltre 1400 morti con un bilancio che continua a crescere inevitabilmente. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica, ecco la qui talebani al potere, l'ora della vendetta, Ghani scappa, il presidente esautorato scappa, ha conquistato il palazzo presidenziale senza trovare resistenza, capitale nella paura, appello delle donne, non lasciateci sole, ci uccideranno, inferno e morte all'aeroporto, migliaia in fuga, assaltano i volivoli sulle piste Biden, evacuazione pacifica, o useremo la forza così Joe Biden. Nel commento di Paolo Garimberti, Biden viene secondo quella che è un'espressione tipica, un'anatrazzoppa alla Casa Bianca, l'anatrazzoppa è un'espressione metaforica per definire la presidente statunitense nel momento in cui non ha più la maggioranza al congresso, ci sono voluti due anni perché conquistassero 6 con dopo l'accordo firmato nel 73 a Parigi, che sanci il ritiro delle truppe americane da Vietnam, i talebani ci hanno messo appena due mesi in patronizzi di Kabul dopo l'annuncio di Joe Biden del ritiro dell'Afghanistan, prima del ventesimo anniversario delle torri gemelle. Ci fermiamo qui per il momento, pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Di nuovo buongiorno, proseguiamo la nostra rassegna stampa, eravamo sulla Repubblica, stavamo analizzando per l'appunto quelli che sono i commenti alla situazione in Afghanistan all'interno di Repubblica, i vari interventi da quello di Bernard Henry Levy, una macchia nella storia dell'Occidente. Il figlio di Masoud ha aiutato la resistenza, Ahmad Masoud, uno dei leader del fronte unito che appunto si oppose ai talebani, poi perché Washington ha scelto il ritiro, l'enigma del secondo emirato islamico e poi l'intervista al leader, al segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che appunto si riassume qui nel titolo, poi andremo magari nel dettaglio, la democrazia non si esporta con la guerra, Al-Qaeda e i profughi, i nuovi timori dell'Unione Europea e questo naturalmente è uno degli argomenti che sta mobilitando tutta la diplomazia a livello mondiale proprio per quelle che sono le imminenti problematiche, sì, di aiuto e di soccorso ovviamente al popolo afgano, ma anche quelle che potrebbero essere poi le ulteriori conseguenze con i flussi migratori senza controllo e il rischio terrorismo. Apocalisse Afghanistan, così la stampa titola, la grande fuga dei diplomatici, Europa divisa sulla gestione dei rifugiati. Draghi chiede una soluzione comune, targata Unione Europea, oggi i ministri degli esteri dell'Unione si riuniranno, i talebano al potere, nasce l'emirato islamico, disperato assalto all'aeroporto per scappare, Biden, non mi pento delle scelte USA. Vediamo anche gli articoli a supporto, c'è il commento di Lucio Caracciolo, America, Nato e altri disastri. L'umiliante sconfitta degli USA in Afghanistan e anche nostra e degli altri paesi europei integrati nella costellazione a stelle strisce. Disastro iscritto nella sua stessa origine, la cosiddetta guerra al terrorismo, ideologia priva di basi strategiche, su cui Washington ha impiantato la sua risposta all'11 settembre. Si consideri solo la bizzarra scelta di elevare una tecnica, il terrorismo, al soggetto nemico o l'altrettanto curiosa decisione di vendicare l'attacco saudita-pachistano alle torri gemelle invadendo l'Afghanistan. Questo è il commento di Lucio Caracciolo e poi Domenico Quirico che fa un'analisi da Saigon, ricordate Saigon 1975, ritiro degli Stati Uniti dal Vietnam a Kabul e un 8 settembre. ancora dalla stampa la foto, questa foto che diventerà iconica, drammatica, quegli uomini caduti dal cielo, uomini che si erano attaccati al vano del carrello di questo cargo e che poi sono precipitati nel vuoto perdendo la vita. È un segno, credo questo, proprio l'esemplificazione della disperazione ai più alti livelli. Poi i diritti, quelle donne senza più libertà, sconcerto, dolore, rabbia, impotenza, voglia di fare qualcosa per le donne, per donne e uomini afghani. Ma che cosa e soprattutto come, si chiede Linda Laura Sabadini. Il racconto poi, un popolo terrorizzato in cerca della salvezza, gli scampati adesso stanneranno i nostri casa per casa, le testimonianze di chi è arrivato, di chi è riuscito a lasciare l'Afghanistan. Ieri 70 persone sono state rimpatriate con un volo dell'aeronautica che è atterrato nel primo pomeriggio a Roma, insieme ai nostri nazionali anche alcuni collaboratori afghani e naturalmente sul volto di tutti la paura per quello, il terrore, per quello che hanno vissuto, ma soprattutto la grande preoccupazione per chi è rimasto e che chiaramente corre veramente grossi, grossi rischi. Andiamo a vedere anche gli altri argomenti, le altre emergenze, perché un sindacato da ridere su vaccini Green Pass, questo è il titolo del commento della professoressa Eugenia Tognotti a proposito delle posizioni dei sindacati sull'adozione del Green Pass e poi un altro argomento importante, fine vita, 500 mila firme e adesso il referendum, lo scontro sull'eutanasia, un plebiscito ha travolto l'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni. Naturalmente l'eutanasia è un tema che mette inevitabilmente in contrapposizione posizioni e convinzioni diverse, il Vaticano ha già espresso tutta la sua preoccupazione in questo senso. Andiamo a vedere anche la messaggero, la prima pagina della messaggero, qui si ripetono praticamente, come vedete, una sorta di rassegna stampa monografica, perché questo è il tema centrale trattato dai quotidiani. I talebani a Kabul, fuga mortale dei civili appesi agli aeree, l'intervista Gentiloni, piano per i profughi, il commissario all'economia Gentiloni che interviene appunto per valutare e studiare un piano che possa sostenere la moltitudine dei profughi, chiaramente nei prossimi giorni tenteranno di lasciare o lasceranno il paese. Cosa dicono al mondo? I corpi in volo nei cieli afghani, dicono che il dramma lo stiamo vivendo indirettamente, ma insomma è difficile anche compenetrarsi in chi lo sta vivendo in prima persona. Altri argomenti trattati oggi dal messaggero, ieri primo tragitto con le nuove insegne, decollo ITA, il battesimo dell'aria, ne arriva certificazione e biglietti, la nuova compagnia che subentrerà ad Alitalia. Covid, il rischio di difenderci solo con i farmaci, scrive Luca Ricolfi, variabili e strategie, poi Sicilia, fascia gialla vicina, scuola, testa, salivari per tutti gli studenti, vaccina la corsa degli adolescenti, ma aumentano contagi e ricoveri. La corsa degli adolescenti perché in quasi tutte le regioni è possibile per la fascia d'età dai 12 ai 18 anni vaccinarsi senza prenotazione e questo chiaramente è una svolta importante. Intanto Viterbo 8000 arriva e un giovane annega a Ferragosto di assembramenti senza regole. Nonostante i controlli e le raccomandazioni, nella giornata di Ferragosto si sono verificati assembramenti, abbiamo visto addirittura 8000 persone nei pressi di Viterbo. Il domani, oggi ne dico, accogliamoli tutti. L'obbligo morale verso gli afghani, la grande fuga da Kabul è già cominciata, alcuni si appendono agli aerei pur di non restare con i talebani dal Canada, dalla Scozia all'Albania, molti paesi sono pronti a fare la loro parte. L'Italia non può essere da meno, scrive oggi nel suo editoriale Stefano Feltri sulla domani, poi Nadia Urbinati, politologa. L'illusione di esportare la democrazia con la guerra, gli errori dopo le torri gemelle, un po' tutti insomma fanno questa valutazione. Il giornale esce con un titolo drastico, il tramonto dell'Occidente, Afghanistan, disastro totale. Indietro di vent'anni i talebani prendono in potere, parte la caccia a casa per casa, jihadisti già tornati in libertà, ma Biden se ne lava le mani. Draghi, aiutare chi è in pericolo, il Cavaliere si muova, la NATO anche qui la corsa per sfuggire dall'incubo. Assalto e morte all'aeroporto. Ancora, come dal giornale, come un Vietnam, usa sott'accusa l'umiliante ritirata, un regalo a Cina e Russia, Cina e Russia, che sottolineiamo hanno già dichiarato di aver iniziato rapporti, di aver intavolato già rapporti amichevoli, così definiti, con l'Emirato Islamico, il Neo-Emirato Islamico. Un fallimento globale, traditi valori e promesse, intervista Galli della Loggia, poi le conseguenze della crisi, bomba profughi in Europa, l'Unione Europea è divisa sull'accoglienza, il ministro degli esteri nel mirino, Di Maio, beccato al mare, mentre a Kabul è l'inferno, diritti negati, donne senza più un futuro, è il ritorno al Medioevo, così il giornale. Questa è la prima pagina di avvenire, torna la notte su Kabul, cambiano le terminologie, ma di fatto il concetto è sempre quello, presa la capitale, in Afghanistan i talebano proclamano l'Emirato Islamico, la fuga degli occidentali, vittime all'aeroporto tra chi cerca la salvezza all'estero. Draghi, proteggeremo chi ha lavorato con noi. E poi la fotonotizia che riporta i dati della catastrofe che ha colpito Haiti con il terremoto di sabato scorso, 7.2, la magnitudo, Haiti l'ennesima tragedia sul destino dei più poveri, 1.300 morti, ma purtroppo il bilancio continua ad essere aggiornato, migliaia dispersi, appello al mondo e oggi sull'isola caraibica dovrebbe arrivare anche la tempesta tropicale Greis. Ancora dall'avvenire Covid, la sfida dei giovani con vaccini senza prenotazione e la Sicilia è a rischio giallo. Avvenire in taglio basso propone un articolo sull'eutanasia, già raccolte 500.000 firme, il referendum adesso il rischio è vicino, questa è l'interpretazione ovviamente di avvenire. Il fatto quotidiano, 9 miliardi e 53 morti per riavere i talebani, la folle guerra, 3.000 miliardi da USA e Nato e l'Italia. Quanti coccodrilli, il trio Bush, Blair e B, sta per Berlusconi, i riformisti della sinistra colpevoli e cifre del disastro afgano già previsto nei cablo di Wikileaks che farà altre stragi. Poi il fatto quotidiano parla del caso Durigon, Draghi tace da 12 giorni, Giorgetti freme. Lasciamo anche il fatto quotidiano, siamo sulla prima pagina di Libero, Kabul, capitale del terrore, fuga dall'Islam, Di Maio segue la crisi in costume dalla spiaggia. Insomma ha fatto scalpore, ha generato polemiche, la foto del Ministro degli Esteri in vacanza nel Salento, ma insomma è chiaramente viene messa in evidenza oggi da Libero questa situazione che si è verificata. Poi a proposito sempre della situazione afghana, vent'anni cancellati, 53 italiani caduti e traditi, li ricorda anche Libero, ed ecco quanti fanno anche da noi, ecco la mappa degli amici dei Tagliagole. Così Libero, diamo uno sguardo anche alla verità, discriminazione al potere, ricatto del tampone, titolo d'apertura completamente diverso dagli altri quotidiani, solo il test da garanzia di non essere contagiosi, lo ammettono Palazzo Chigi e Campidoglio USA. Invece di renderlo gratuito per la sicurezza di tutti però viene ostacolato, lo scopo dichiarato è obbligare la gente a inocularsi Pfizer e Moderna, col risultato di favorire più ambienti e di creare false illusioni di immunità. La fotonotizia che riguarda l'ex ministro dell'istruzione Azzolina, così l'onorevole ministro Azzolina, ha preparato il futuro del preside Azzolina perché ha vinto il concorso da preside. E soltanto in taglio medio-basso si parla di Afghanistan sulla verità, in preda al terrore, questo è il titolo della verità, caccia i traditi dagli occidentali, i talebani passano casa per casa, i disperati tentativi di fuga aggrappati agli aerei, spiaggiato mentre cade Kabul, gli alleati di Tagliaviva all'assalto di Di Maio. E torniamo al discorso delle vacanze in Salento del ministro degli esteri. Diamo uno sguardo anche al tempo, impasto ai talebani, USA e Italia rimpatriano i loro e abbandonano il tragico destino i giovani afghani che assediano l'aeroporto di Kabul. E anche il tempo bufera su Luigi Di Maio, assente, il ministro è al mare con gli amici. Così il tempo, che lasciamo per andare sulla prima pagina del Sole il 24 ore, che molto pragmaticamente fa un calcolo economico di quella che è costata questa lunga missione durata vent'anni in Afghanistan, di fatta costata a Stati Uniti è nato oltre 2 mila miliardi di dollari. Poi una notizia che riguarda, che certamente si distacca dalla situazione afghana, abbandono l'ultralarga il piano di Colau, i fondi per la rete fissa. Siamo praticamente in chiusura, diamo uno sguardo anche alla Gazzetta dello Sport per alleggerire per quanto possibile un po' l'atmosfera e il gran premio della Serie A. Qui c'è una foto di Max Allegri tenuta da pilota di Formula 1, la Juve va in pole, il ritorno è Allegri e la Rosa Lunga, la signora che tratta oltranza per Locatelli e la super favorita. A pochi giorni dall'inizio del campionato. Con questo è tutto, adesso c'è il meteo e poi a seguire la prima edizione della Tg La 7. A più tardi.